Operazione delle Fiamme Gialle a Ragusa, proprio nell'imminenza della tradizionale festività di Halloween, che ha consentito il sequestro dell'immediato ritiro dal mercato di oltre 100.000 articoli assolutamente non conformi sulla sicurezza dei prodotti. L'operazione dei finanziari ha interessato un megastore del centro gestito da un imprenditore cinese e, tra i prodotti sequestrati, giocattoli, maschere, travestimenti e accessori vari legati appunto alla celebre e popolare festa notturna in programma domani, 31 ottobre. L'imprenditore cinese è stato quindi segnalato anche alla Camera di Commercio e sono previste sanzioni fino a 25.000 euro, oltre alla confisca e distruzione dei prodotti sequestrati. E quello della sicurezza dei prodotti rimarcono ancora una volta al comando delle Fiamme Gialle e un aspetto ormai da tempo nel mirino del corpo, consapevole del fatto che il consumatore, attratto dai prezzi scontati dei prodotti, non considera e non si rende conto dei rischi cui va incontro.